Attimi di terrore questa mattina in via Mura Malatestiane. Un nordafricano di 58 anni già in cura per disturbi mentali ha tentato di togliersi la vita intorno alle 8.45 gettandosi dalla ferrovia sottostante dalle mura all'altezza della scuola Gandilio. L'uomo era seduto sul parapetto con le gambe rivolte all'infuori quando sono arrivati due agenti di polizia avvertiti da una passante che ha chiamato il 113 e assistito alla scena terrificante. Alla vista dei poliziotti però l'uomo è sceso dalle mura e ha fatto il gesto di allontanarsi. Gli agenti quindi gli sono andati incontro ma a quel punto con una mossa inaspettata il cinquantantenne è tornato sui suoi passi ed è risalito nuovamente sul parapetto tentando di gettarsi nel vuoto. A quel punto gli agenti di polizia aiutati anche da una pattuglia della polizia municipale arrivata in supporto hanno evitato il peggio e si sono gettati addosso all'uomo placandolo praticamente e ormai sospeso nel vuoto. Un agente della municipale e di poliziotti hanno così salvato la vita all'uomo in evidente stato confusionale ed affidato poi alle cure del 118 che le ha trasportato a Santa Croce di Fano dove il nordafricano è stato ricoverato nel reparto di psichiatria.